Al Gianrusso di quarto si gioca la ventiquattresima giornata di campionato tra quarto e Miano. La squadra di Amorosetti viene da due pareggi consecutivi e vuole riscattare il 5-1 dell'andata. Il Miano cerca almeno un punto importante per la salvezza. La squadra di Esposito inizia con due calci di punizione molto simili, entrambi battuti da Di Marino e entrambi parati da Navarra. A fine primo tempo arriva il contropiede del Miano con Di Pietro. Davanti al portiere sbaglia il controllo e sfuma l'occasione. La prima occasione per il bianco celeste arriva solo al 45esimo con molta confusione in aria. Gaveglia serve D'Aura in buona posizione che tira sul secondo Paolo ma il pallone finisce fuori. Il quarto rientra dagli spogliatori colpiglio giusto e al quarto palma con una serie di finte fa fuori la difesa e davanti al portiere sbaglia. Quarto in difficoltà in difesa con Amorosetti che inserisce Esposito che in due minuti riesce con un tiro al giro di insaccare la palla alle spalle di D'Andrea. Ma la gioia dura pochissimo. Il guardia a linee ferma tutto per fuorigioco. Al ventiduesimo sul cross di Esposito D'Aura anticipa il difensore toccando di tacco ma D'Andrea fa buona guardia. Tre minuti dopo Pirozzi fa falla al limite dell'area ed essendo già morito l'arbitro decide di mandarlo negli spogliatori in anticipo. Al ventottesimo il quarto sembra giocare meglio anche in minoranza numerica ed è ancora un cross a mettere in difficoltà la difesa del Miano. Con Pirone che tira al volo ma colpisce il palo. Il quarto chiude il Miano in un assedio che dura poco più di 15 minuti ma senza trovare gol. Al novantesimo la squadra di Amorosetti perde palla a centrocampo dando l'ultima occasione a Di Pietro che con alcune finta beffa la difesa mettendo palla alle spalle di Navarra. Termina 1-0 per il Miano che spugna il Gianrusso e porta tre punti a casa importantissimi in chiave salvezza. Mentre il quarto non sfrutta il doppio pareggio dell'Ostasia sul campo del Florigium e della Frattese sul campo della Sibilla.